Avvio la registrazione e incomincio appunto innanzitutto dando a voi tutti il benvenuto. Questa iniziativa, come ricordava Marco, è un'iniziativa che ha lo scopo di metterci intorno a un tavolo e in sostanza darci la possibilità di scambiare impressioni, idee e quindi arrivare comunque a stimolarci tra di noi per accrescere le nostre conoscenze e per riuscire comunque a utilizzare al meglio lo strumento Navident. In questa sfilza di clinici, come vedete ci sono anch'io che non sono un clinico, ma in realtà rappresento Navident, e il mio contributo chiaramente non può essere che non quello di sviluppare un po' gli aspetti motivazionali legati all'uso del Navident per poi arrivare, e questo è quello che cercherò di raggiungere come obiettivo durante questo incontro, per poi arrivare a dettagliare alcuni protocolli tecnici che saranno invece oggetto del mio secondo incontro. Da un punto di vista di quelle che sono le finalità di questi incontri, abbiamo detto che vogliamo favorire la condivisione delle esperienze e delle conoscenze. Siamo aperti a tutti, quindi sia a coloro che utilizzano il Navident che a coloro che non utilizzano il Navident, e vorremmo in qualche modo sviluppare una modalità di comunicazione circolare. nessuno di noi nel suo singolo è in grado di arrivare all'immagine di insieme, e quindi pensiamo che raccogliendo il punto di vista di tutti si riesca a crescere arricchendoci ciascuno delle competenze dell'altro. Quindi l'idea è quella di poter creare una comunità di professionisti che chiaramente sono spinti dalla passione di migliorare se stessi. Quindi evidentemente quello che poi vi spinge a stare alle ore 21 la sera dopo una giornata lunga e impegnativa è quello che chiaramente pensate e credete che questo tipo di attività possano essere utili per migliorare la vostra qualità di lavoro e quindi per migliorare anche la soddisfazione che poi ottenete dai pazienti. Per quanto riguarda la modalità con cui noi arriviamo a questi incontri è quella di dare un accesso assolutamente gratuito sia agli utilizzatori Navident che a coloro che hanno partecipato al corso di abilitazione. Voi sapete che nell'ambito dell'attività che noi svolgiamo il corso di abilitazione all'uso del Navident è una pietra migliare importante per quanto riguarda poi l'inizio di quella che è la curva d'apprendimento sull'uso della chirurgia navigata. E quindi le persone che hanno iniziato questo percorso o dal corso oppure hanno iniziato a utilizzare il Navident hanno libero accesso a questo tipo di iniziativa. Questa iniziativa vogliamo renderla però come dicevo aperta anche a persone che non hanno conoscenze legate alla chirurgia navigata e quindi ci aspettiamo che queste persone possano in qualche modo impegnarsi su questo tema e giustamente per potersi impegnare su questo tema le persone devono avere un'idea delle cose di cui stiamo parlando quindi è evidente che vogliamo dare la possibilità a queste persone di avere almeno due incontri di accesso gratuito a questo palinsesto di incontri per capire un attimo le persone, conoscere, avere anche un po' l'intuito del carattere, della personalità delle persone e quindi capire se poi questo ambiente possa o meno adattarsi alle aspettative che poi ciascuno può avere. Abbiamo pensato di dare poi appunto una concretezza a questo tipo di partecipazione chiedendo poi una quota di 50 euro più IVA dando un incentivo che è quello di poter con un minimo di tre mesi di partecipazione eventualmente avere uno sconto su quello che è il corso, un prossimo corso di abilitazione. Questo è quello che comunque abbiamo in qualche modo sviluppato. Dal momento ecco io vi chiedo, abbiamo cercato di dare un minimo di interattività anche a questa presentazione facendola in questo modo vi chiedo di poter attraverso anche cellulare se non attraverso computer o attraverso qualche altro strumento a vostra disposizione di poter accedere ad un sito che Slido se voi andate su qualsiasi browser e inserite Slido vi chiedo di inserire questo Slido vi porterà all'interno di un sito che vi permetterà vi comparirà questo banner nero in cui io vi chiedo di inserire praticamente questo codice il codice numerico è 1101 2021 che guarda caso è il giorno, il mese, l'anno in cui stiamo parlando e attraverso questo accesso accederete a quella che è appunto una polla io sostanzialmente vi chiedo di appunto accedere e vi chiederà questa polla quanto conosci di chirurgia navigata l'idea è quella di appunto riuscire a entrare all'interno di questa polla dare una risposta a questa domanda e quindi incominciare anche a sgranchirci un po' le gambe per quanto riguarda questa modalità di interazione che vogliamo seguire questa non è, mi auguro che non sarà l'ultima e l'unica modalità di interazione ma questa potrebbe essere una di queste per cui vi chiedo appunto anche attraverso il cellulare o attraverso un computer di poter inserire su un qualsiasi browser la parola slido cliccare su questo link e poi quando poi andate sul sito troverete appunto un banner nero e quindi in questa zona di inserire il codice 1101 2021 questo sostanzialmente ci permetterà poi sostanzialmente di avere informazioni a riguardo per quanto riguarda per quanto riguarda i programmi i programmi che noi abbiamo per questi sei mesi vi accennavo appunto i due temi che sostanzialmente mi coinvolgeranno poi ci sarà la presentazione di Antonio per quanto riguarda la rivoluzione del trattamento della mandibola gravemente atrofica ci sarà l'incontro l'8 di febbraio e poi come avete visto ogni due settimane quindi il 22 febbraio ci sarà appunto il tema lo scoglio dell'implantologia computer assistita scattering conoscerlo e gestirlo da appunto Antonio passeremo poi a Luca Luca affronterà i temi degli errori insuccessi e colpi di fortuna da evitare in chirurgia e implantare e poi l'8 marzo festa della donna e poi il 22 marzo la pianificazione biologica con Navident dal caso semplice a quello complesso Rudy affronterà il tema del trattamento dell'identulia inferiore e il trattamento dell'identulia superiore nelle giornate del 12 e del 26 aprile Paolo affronterà licerature per un'implantologia protesicamente guidata il 10 maggio e il 24 maggio le tecniche nell'identulia parziale chiuderemo con Luigi che affronterà appunto dal protocollo Long4 al nuovo Da Vinci il 7 giugno paziente atrofico e riduzione dei costi biologici ed economici il 21 giugno questi sono diciamo l'elenco delle attività appunto che noi andremo a sviluppare durante questo tipo di percorso brevemente io mi presento io dal 2002 lavoro nel settore dentale precedentemente ho maturato un'esperienza nell'ambito del medical device e quindi dal 2002 mi occupo di tecnologia applicata all'odontoiatria prima nell'ambito laser perché nel 2002 come responsabile per l'Italia mi sono occupato del laser e dal 2007 della chirurgia guidata statica appunto con il Simplant fino al 2014 quando poi Materialized Dental è stata acquistata da Densply Sirona dal 2016 mi occupo di chirurgia navigata quindi ormai sono cinque anni che stiamo sviluppando il tema della chirurgia navigata qui vorrei iniziare appunto con questa frase di Moschel Fedenkrais che è diciamo tra l'altro l'autore e l'ideatore del metodo Fedenkrais che è un metodo per il recupero posturale quindi è uno studioso diciamo un studio della consapevolezza da un punto di vista da un punto di vista appunto del appunto del comportamento e della posizione lui dice appunto non ci può essere miglioramento senza cambiamento quindi è evidente che il miglioramento necessita di un cambiamento e questo cambiamento sappiamo è determinato da un aspetto sostanzialmente anche tecnologico non solo tecnologico noi stiamo vivendo quella che Klaus Schwab ha definito la quarta rivoluzione industriale identificando come prima l'invenzione del motore appunto della locomotiva quindi del vapore motore a vapore per poi arrivare all'elettricità per poi arrivare ai computer fino ad arrivare ai giorni nostri dove appunto si parla appunto di internet delle cose e in sostanza arrivare aspettate che qui Ilaria mi chiede di inoltrarle il link del nostro incontro ok e quindi sostanzialmente di arrivare poi a quella che viene chiamata odontoiatria 4.0 quindi odontoiatria che comunque si sviluppa e si articola nell'ambito della tecnologia e quindi arriviamo un attimo a capire e a maturare da un punto di vista anche di base di partenza il perché della chirurgia navigata qui i cambiamenti ce ne stanno non solo da un punto di vista tecnologico ma anche come sappiamo da un punto di vista ambientale questa era un'immagine di una sala d'attesa diciamo pre-covid e questa è sostanzialmente una sala d'attesa attuale dove comunque la distanza tra i pazienti e una serie di dispositivi per la protezione individuale hanno cambiato e cambiano sostanzialmente il rapporto che c'è con i pazienti ed è io credo che una delle motivazioni che porta la chirurgia navigata in questo momento ad avere un ruolo importante è proprio il concetto della one day digital dentistry cioè l'opportunità di incominciare a lavorare anche con un'idea di poter chiudere un cerchio sostanzialmente attraverso un'unica giornata potenzialmente di lavoro partendo da una combim partendo da una progettazione dall'esecuzione dall'inserimento degli impianti fino alla protesizzazione è evidente che questo concetto ci porta chiaramente in un'altra direzione che quella della digitalizzazione dove abbiamo visto che partiamo da una combim c'è una parte di progettazione legata a software da laboratorio quindi legata alla protesi e poi integrata con il navident quindi con il software di progettazione navident e poi senza soluzione di continuo l'atto chirurgico navigato e qui vediamo che c'è questa freccia che ci porta da una parte alla dima chirurgica dall'altra ha le due branche che sta prendendo l'implantoprodesi da una parte la robotica dall'altra parte appunto c'è la realtà aumentata e cioè c'è sostanzialmente il navident vale a dire l'opportunità per il professionista di acquisire in tempo reale le informazioni di quello che viene fatto sul paziente e di interagire con queste informazioni attraverso un'attività sostanzialmente di appunto un'attività in tempo reale ma non è appunto non è l'unica l'unico aspetto di cui sentiamo parlare in questi giorni noi sentiamo sostanzialmente parlare anche di intelligenza artificiale perché poi di fatto l'intelligenza artificiale sta entrando anche nell'ambito dell'odontoiatria qua io riporto questa immagine condivisa dalla BBC dove appunto si è partiti da AlphaGo che è appunto una macchina in grado di vincere il campione mondiale di Go che è un gioco orientale complesso attraverso l'uso di regole vedete nella parte verde appunto le regole che venivano comunque inserite all'interno di AlphaGo una serie di conoscenze una serie di dati che venivano inseriti all'interno della macchina si è passati gradualmente ad AlphaGo Zero ad AlphaZero e a MuZero che è la macchina l'ultima macchina che sostanzialmente è stata affiancata e che vedete ha delle capacità molto maggiori rispetto ad AlphaGo in termini di giochi ma anche in termini di applicazioni ma ha una caratteristica fondamentale che è quella appunto di non aver bisogno dell'intervento dell'uomo perché è in grado attraverso una funzione di Deep Learning di arrivare ad acquisire sostanzialmente le regole del gioco e quindi di poter giocare secondo delle regole che sono apprese direttamente dalla macchina e quindi la domanda un po' provocatoria è questa quindi io eventualmente anche qui vi invito se appunto volete di arrivare appunto a rispondere a questa domanda se l'intelligenza artificiale quindi chiedo a voi quindi anche in termini di partecipazione qual è il vostro punto di vista per quanto riguarda la domanda che in qualche modo io vi pongo cioè dal punto di vista vostro l'intelligenza artificiale potrà sostituire il lavoro del professionista del dentista qual è il punto di vista vostro che tipo di idea avete a riguardo chi è che in qualche modo vuole azzardare un punto di vista intanto io vedo anche sostanzialmente le persone che rispondono da anche attraverso questa questa poll no e vedo che appunto le persone che stanno rispondendo stanno dando una risposta negativa cioè è evidente che comunque la tecnologia è vero che sta acquisendo una rilevanza via via più più significativa però evidentemente ci sono dei limiti che in qualche modo sono riconducibili un po' alla logica stessa del lavoro dell'odontodiatra e quindi evidentemente quindi come voi state manifestando attraverso questa poll l'intelligenza artificiale non può sostituire il dentista eventualmente lo può affiancare così come sta succedendo anche in questi giorni in questo periodo cioè attraverso la possibilità di poter supportare il dentista da un punto di vista diagnostico ma lasciando poi appunto al dentista la gestione e anche la responsabilità medico-legale del caso quindi è evidente che in questo senso ci sono dei limiti alla tecnologia in ambito odontogliatrico io vorrei iniziare appunto appunto con un'affermazione che spesso mi viene mi viene mi viene fatta legata appunto all'obiezione dell'utilizzo della chirurgia dinamica l'obiezione che è nascita dal fatto che io gli impianti io li metto senza chirurgia guidata io non ho bisogno della chirurgia guidata per poter mettere un impianto questa è diciamo un'osservazione che mi viene spesso riferita dai vostri colleghi ecco io quello che voglio dire è che infatti il Navident e la chirurgia guidata non servono per mettere gli impianti questo è il punto credo essenziale per riuscire a capire la logica della chirurgia navigata e della chirurgia guidata perché in realtà questi strumenti servono per fare una chirurgia che sia protesicamente guidata cioè il punto di partenza non sono gli impianti il punto di partenza rimane la protesi questo è il grande concetto che appunto i dottori Scott Gans e Tardier hanno in qualche modo sviluppato nel 2006 nel 2007 all'epoca la chirurgia era guidata dall'osso quindi si mettevano gli impianti e non si preoccupava della protesi invece il punto di vista di questi due clinici è stato quello di invertire un ordine un indice referenziale quindi non più il chirurgo e quindi l'inserimento dell'impianto ma in qualche modo il protesista e quindi sostanzialmente l'obiettivo che in qualche modo doveva guidare lo sforzo clinico era l'obiettivo di riuscire a dare al paziente un sorriso e rendere predicibile questo stesso risultato e come poteva esserlo predicibile lo poteva essere attraverso appunto la tecnologia attraverso appunto in questo caso vediamo il Navident scusate il Simplant quindi attraverso la possibilità di poter sviluppare con un software i due elementi chiave che sono una parte quello anatomico e dall'altra parte quello protesico avere quindi le due informazioni per poter poi arrivare a gestire prima virtualmente e successivamente attraverso una dima chirurgica statica l'intervento chirurgico questo è il grande cambiamento portato dal 2007 in poi cioè quello di non focalizzarsi sull'impianto e quindi di parlare di fatto di implanto protesi ed è questo il tema principe e cardine su cui la chirurgia guidata e quindi la chirurgia dinamica in qualche modo si sono sviluppati quindi evidentemente la logica era quella di poter prevenire degli errori protesici quindi evidente che qua il clinico ha inserito l'impianto dove c'è osso ma senza tenere presente l'aspetto protesico e quindi in questo senso la chirurgia guidata sostanzialmente permetteva e permette di di evitare questo tipo di incongruenza ma l'altro grande vantaggio della chirurgia guidata e qui sto parlando appunto della chirurgia guidata statica oltre che appunto quella dinamica è quella di poter mettere più impianti paralleli quindi garantire un parallelismo ancora una volta congruo rispetto alla protesi attraverso appunto la possibilità di essere guidati attraverso appunto in questo caso o una dima chirurgica piuttosto che non appunto il navident e quindi il grande contributo della chirurgia guidata statica è stata la democratizzazione è stata la democratizzazione della chirurgia flapless la possibilità cioè di poter avere delle mini incisioni oppure addirittura degli opercoli a livello di tessuto molle per poter andare ad inserire impianto e abattimento quindi è evidente che questo tipo di intervento si è reso possibile proprio attraverso l'uso della chirurgia guidata e qui ancora una volta una poll per chi ha la voglia di rispondere di rispondere attraverso questa polla è quella di andare a dare un punto di vista su quello che è la chirurgia dinamica cioè un punto di vista su quella che è la chirurgia guidata statica cioè abbiamo visto che la madre della chirurgia dinamica è quella statica e quindi avere diciamo un punto di vista da parte vostro su quello che è il valore della chirurgia guidata statica dal vostro punto di vista quindi avere un'idea di quella che è praticamente il punto di vista vostro su questa tecnica io vedo qui alcuni colleghi che stanno rispondendo alla poll vedo tra l'altro alcuni che danno risposte positive appunto sul valore e sul peso della chirurgia guidata statica altri un pochino di meno è evidente che sostanzialmente la chirurgia guidata statica ha sicuramente dei vantaggi ma anche degli svantaggi e questo in qualche modo è spiegato dal fatto che ormai dal punto di vista clinico di applicazione clinica meno del 5% degli implantologi in qualche modo utilizza la chirurgia guidata statica quindi con una dima stereotografica nonostante tra l'altro le evidenze di carattere scientifico perché stiamo parlando ormai dal 2006-2007 quindi stiamo parlando ormai quasi 15 anni di letteratura e la letteratura dimostra in modo inconfutabile la superiorità della chirurgia guidata con dima stereotografica rispetto alla mano libera questo è diciamo il dato incontrovertibile che proviene dalla letteratura è altrettanto vero che invece il dato che proviene dalla clinica è questo cioè come appunto ci sia ancora una percentuale ristretta di professionisti che fa un uso continuativo quindi non stiamo parlando di un uso diciamo saltuario magari riferito a un certo tipo di intervento mi viene appunto in mente il carico immediato ma che appunto è un numero limitato di professionisti che ha scelto la chirurgia guidata con dima stereotografica come tecnica di riferimento per quanto riguarda la propria implantoprotesi ecco che evidentemente evidentemente qualche cosa c'è che in qualche modo condiziona questo tipo di applicazione e perché probabilmente sono molti già di questi perché sono riconoscibili e riconosciuti da voi come professionisti legato al discorso del costo della dima il fatto che appunto ci sia la necessità di tempi di produzione e di consegna che sono comunque tempi che vado a dilazionare quindi in qualche modo a interrompere quel concetto di one day digital dentistry che abbiamo visto prima il fatto di dover utilizzare dei kit chirurgici aggiuntivi il fatto che ci sia una curva di apprendimento e anche un certo livello di inflessibilità di cambiamento del progetto vado a dire che quando il progetto viene pianificato e quindi viene poi prodotta una dima su quel progetto non c'è la possibilità durante la fase operatoria di poterlo modificare perché chiaramente il manufatto di dima chirurgica è stato prodotto e quindi conseguentemente non può essere modificato ecco questi sono gli aspetti su cui appunto interviene la chirurgia la chirurgia dinamica ed è diciamo un modo di intervenire che secondo me questo è il ciclo di Deming che in qualche modo sostanzialmente va a razionalizzare quello che è l'apprendimento a livello clinico si sposa molto bene con appunto questo ciclo di Deming perché la chirurgia dinamica in realtà si sviluppa secondo un flusso di lavoro quindi partendo dalla diagnosi quindi dalla pianificazione sempre effettuata attraverso la chirurgia dinamica in quanto abbiamo l'opportunità di poter importare i setup diagnostici in formato STL e quindi siamo in grado attraverso lo studio del caso di fare diagnosi e di pianificare virtualmente l'intervento dalla pianificazione al do quindi all'atto chirurgico e qui il grande vantaggio è quello di lavorare senza soluzioni di continuo quindi di arrivare potenzialmente una volta ha fatto la pianificazione a effettuare con un atto chirurgico l'intervento stesso la grande appunto novità quindi il grande elemento importante è anche EvaluNav che è un software che vive all'interno dell'ecosistema del Navident che permette un controllo tra quello che è l'eseguito e quello che è il progettato e quindi attraverso questo controllo arrivare quindi all'apprendimento quindi è un apprendimento clinico che ha una rilevanza da un punto di vista di crescita professionale molto importante io qui metto in evidenza il Levayunav appunto che lo strumento ripeto che vive all'interno dell'ecosistema del Navident è uno strumento molto utile per riuscire a capire anche lo scostamento che c'è tra l'eseguito in questo caso l'impianto rosso che noi vediamo nell'immagine e quello che è stato eseguito la forma gialla e la forma dell'impianto che è stato progettato e come vedete all'interno di questa immagine in alto c'è una serie di informazioni che sono legate appunto allo scostamento agli errori di posizionamento dell'eseguito rispetto al progettato quindi Evayunav è uno strumento che nell'ambito di quello che è l'approccio di Deming di apprendimento aiuta il clinico vi aiuta a migliorarvi e a capire quali sono le aree di miglioramento da un punto di vista di digressione rispetto all'argomento che noi stiamo trattando volevo fare riferimento appunto a queste immagini che fanno riferimento al personal computer vediamo un personal computer e un mouse e noi abbiamo la diciamo la memoria storica di chi appunto Steve Jobs come uno dei padri del Mac in questo caso è il Macintosh che è stato presentato nel 1984 ma non scusate non ci ricordiamo in realtà di questo altro personaggio che è quello che realmente ha inventato praticamente il personal computer così come lo conosciamo lo schermo le icone grafiche che permettono e facilitano l'interazione il keyboard e il mouse e questo signore è un signore che lavorava all'interno di un'azienda che appunto si chiamava Xerox e la Xerox nei laboratori di Palo Alto in California hanno inventato il personal computer se non che questo è lo star del 1980 se non che successivamente arriva IBM e l'immagine centrale appunto è quella dell'IBM computer IBM con Microsoft come sistema operativo e successivamente ben cinque anni dopo arriva Steve Jobs con il Macintosh ora appunto per quale motivo faccio questo tipo di appunto di presentazione perché in realtà la chirurgia dinamica è una chirurgia che ha una data molto precedente al 2016 che è appunto l'anno di commercializzazione in Navient fa riferimento appena 15 anni prima perché 15 anni prima il RoboDent lo strumento di chirurgia dinamica fu presentato all'AIDS quindi a Colonia da Charity che è praticamente l'ospedale più importante che c'è a Berlino che appunto arrivò a sviluppare questo strumento che è uno strumento che lavorava con il concetto di raggi infrarossi che partivano da due sensori colpivano dei quarsi che venivano posizionati sul paziente e sul manipolo questi quarsi essendo specchi riflettevano il segnale ai sensori e attraverso la misurazione del tempo si arrivava a dare un punto nello spazio e quindi si poteva arrivare a definire esattamente l'attività che il clinico faceva nell'ambito chirurgico che stava portando avanti questo tipo di strumento il Robodent non esiste più la storia del Robodent è una storia un po' particolare io ho avuto modo di incontrare e conoscere il dottore Hildebrand che voi vedete in mezzo ai due prodotti nella parte nella sua a sua destra c'è il Robodent e alla sua sinistra c'è il Navident in quanto come potete immaginare è un utilizzatore Navident e quindi è evidente che questa tecnologia che oggi non esiste più faccio riferimento al Robodent ma che appunto ha aperto la strada alla chirurgia dinamica l'ha in qualche modo fatto sulla base all'epoca stiamo parlando del 2001 di un'epoca in cui da un punto di vista tecnologico possiamo paragonarla all'epoca giurassica in termini sia in termini di velocità dell'hardware in termini di internet in termini di presenza di TAC immaginate che nel 2001 le con BIM non venivano non erano presenti come lo sono oggi e all'epoca chiaramente internet e anche gli hardware avevano una diffusione decisamente più limitata è evidente che questo tipo di soluzioni ha permesso recentemente appunto di poter presentare e sviluppare questo tipo di modalità semplificandolo nella sostanza rispetto appunto il Robodent Robodent che a livello diciamo di qualche notizia fu comprato da Strauman quindi il brevetto Robodent fu comprato da Strauman ma il progetto cadde questo vi ripeto la storia che mi è stata raccontata da dottor Hildebrand perché all'epoca ITI che come sapete era l'organo ed è l'organo formativo di Strauman era contraria a questo tipo di approccio e quindi ci fu una diciamo una diatriba tra ITI e Strauman e quindi poi alla fine morì l'inventore del Robodent il suo allievo appunto il dottor Hildebrand lo vediamo ancora sano e vegeto e quindi operativo anche sul Navident morì l'inventore del Robodent e quindi la cosa poi appunto si chiuse in questi termini quindi parliamo un attimo di ClaroNav ClaroNav è l'azienda canadese che ha sviluppato questa tecnologia la missione di ClaroNav è quella del do good have fun e make money quindi è una missione legata comunque alla missione di voler comunque migliorare e quindi portare a portare un miglioramento in quella che è l'attività chiaramente dell'implantologo nel contesto comunque di avere comunque l'opportunità di lavorare divertendosi e chiaramente avendo l'opportunità lavorando di sviluppare anche il proprio business e come lo fa come lo sviluppa il proprio business ClaroNav lo sviluppa innanzitutto con il Navident ma anche con un altro prodotto che si chiama Navient che è un prodotto che viene utilizzato in un'altra branca della medicina non l'odontoiatria ma in neuro in neurochirurgia in otorino la ringoviatria e in ortopedia entrambi questi due prodotti il Navident e il Navient hanno come comune denominatore il Micron Tracker Micron Tracker è la parola in qualche modo ci aiuta Tracker quindi tracciatore è appunto il cuore della chirurgia dinamica Navident ed è oltretutto anche un brevetto di proprietà dell'azienda ClaroNav ed è appunto questi due occhi che noi vediamo rappresentati in questa immagine e che si posizionano come vedete sopra il computer all'interno di quella scatola bianca di questa scatola bianca che ci permette di vedere queste due telecamere e sostanzialmente queste due telecamere si comportano un po' come si comportano i nostri occhi noi abbiamo una visione 3D perché abbiamo due occhi attraverso la distanza che c'è tra un occhio e un altro abbiamo la possibilità di poter acquisire un angolo e quindi di avere una visione tridimensionale se noi avessimo un solo occhio avremmo una visione bidimensionale ecco che questa visione delle due telecamere attraverso un software viene sovrapposta alle immagini tridimensionali della combim quindi noi in realtà con la chirurgia navigata navighiamo la combim che è stata fatta direttamente dal paziente quindi è evidente che in questo caso ci deve essere anche una qualità della combim e anche una data recente della combim in modo da poter navigare una anatomia che viene poi rappresentata da quello che poi noi troviamo in bocca al paziente quindi questi sono gli elementi caratteristici il micron tracker micron tracker che come appunto rappresenta questa questa immagine che è l'immagine di Top Gun e di Tom Cruise è una tecnologia questo è un film del 1986 quindi stiamo parlando di più di 30 anni fa una immagine che rappresenta proprio il concetto del motion tracking qui vediamo l'aereo russo che entra nello spazio aereo americano il cerchio che si chiude sull'aereo e quindi qualsiasi movimento faccia l'aereo per muoversi il cerchio è in grado di eseguirlo e quindi eventualmente un missile è in grado di colpirlo questo concetto quindi del tracciare i movimenti e del chiudere i movimenti all'interno appunto di una struttura che mi permette di monitorare e tracciare ogni movimento è alla base della chirurgia navigata questa tecnologia quindi nasce in ambito militare si esporta in ambito prima in ambito neurochirurgico e abbiamo visto da cinque anni a questa parte viene utilizzata in ambito odontogliatrico e quindi il concetto è proprio quello della stereoscopia quella di avere queste due telecamere che come due occhi fissano che cosa? una scacchiera bianca e nera quindi ciascuna telecamera in grado di fissare un punto i punti più facilmente identificabili come potete immaginare sono il confine tra il bianco e il nero quindi attraverso questo tipo di immagine questa rilevazione di punti fatta da ciascuna telecamere questa informazione permette appunto attraverso l'identificazione di tre di questi elementi di posizionare nello spazio un oggetto quindi come funziona da un punto di vista pratico la chirurgia navigata funziona in questa modalità funziona cioè con le due telecamere che abbiamo detto che raccolgono i punti presenti in scacchiere bianche e nere queste scacchiere sono fissate sul paziente quindi abbiamo la necessità di tracciare i movimenti del paziente e sono fissate sul contrangolo attraverso questa scacchiera in plastica molto leggera che viene fissata direttamente utilizzando un adattatore universale direttamente sul contrangolo quindi ciascun movimento il movimento della mano del chirurgo e il movimento del paziente vengono rilevati dalle due telecamere e abbiamo detto il software non fa altro che riportare questi movimenti in tempo reale sulle informazioni della Combeam questo è il funzionamento della chirurgia dinamica ecco un aspetto importante che richiede una curva d'apprendimento e questa posizione che noi vediamo essere quella tipica e propria della chirurgia dinamica dove il clinico si posiziona a ore 12 e ha una visione indiretta guardando lo schermo di un computer quindi il clinico attraverso l'osservazione dello schermo è in grado di decodificare le informazioni che lo schermo appunto gli sta proponendo e quindi attraverso la lettura di queste informazioni è in grado di guidare in modo dinamico l'atto chirurgico questo rappresenta una curva di apprendimento ecco il motivo per cui Claro Nav Navident fa corsi di abilitazione prima dell'acquisto dell'apparecchiatura perché appunto diventa importante mettere in condizione il clinico di capire se nelle sue mani questa tecnologia può funzionare oppure no perché non è detto che tutti abbiano una facilità o abbiano un interesse o una capacità nel portare avanti questo tipo di protocollo di lavoro che come vedete al momento è un protocollo di lavoro in modalità indiretta non in modalità diretta e quindi se noi vogliamo in qualche modo confrontarci ad una tecnologia simile molto conosciuta sicuramente il GPS è la tecnologia più simile alla chirurgia navigata perché anche qui abbiamo non più due telecamere ma abbiamo un satellite come sapete il satellite rileva coordinate nello spazio quindi ha bisogno anche lui di tre coordinate per identificare un punto nello spazio e poi evidentemente attraverso un monitor abbiamo la possibilità di capire dove stiamo e quindi di arrivare rispetto a una progettazione una pianificazione o attraverso quello che è il suggerimento che ci viene comunque fornito a raggiungere il punto di arrivo B nel caso del Navident abbiamo detto che lo schermo è quello del computer che fa parte integrante del sistema e cosa vediamo in questo schermo noi vediamo appunto un target vediamo un target che ci guida che guida l'azione del clinico in quella che è appunto la chirurgia a mano libera ma guidata dalle immagini e che permette di arrivare prima all'ostiotomia secondo l'asse di progettazione e poi ci permette di arrivare all'inserimento dell'impianto ancora una volta secondo una chirurgia protesicamente guidata questo è quello che appunto facciamo attraverso il Navident e quindi come lo facciamo quali sono le informazioni che il Navident lo schermo del computer presenta al clinico queste informazioni come vedete sono questi sei quadranti durante l'atto chirurgico il clinico ha di fronte a sé questi sei quadranti il primo quadrante è l'atto chirurgico vero e proprio perché abbiamo detto che queste sono due telecamere e quindi il Navident registra l'atto chirurgico facendo un filmato dell'atto chirurgico e tra l'altro registra anche l'audio quindi possiamo considerarlo come una grande scatola nera un po' come quello che succede con gli aeroplani perché in questo senso anche qui abbiamo la registrazione di un audio e di un video questo è un elemento importante perché questa informazione è sempre a disposizione del clinico non solo da un punto di vista medico legale ma anche da un punto di vista anche di apprendimento è evidente che se durante la curva di apprendimento del clinico nell'uso di questa tecnologia può accadere che ci sia un errore ci sia appunto una dimenticanza di quello che può essere il protocollo ecco è possibile attraverso la condivisione di quello che è il video dell'intervento riuscire a capire qual è l'elemento mancante che ha creato l'impasse e quindi attraverso questa comprensione riuscire poi a superare l'impasse e quindi riuscire in qualche modo a migliorare l'uso sostanzialmente dello strumento quindi noi abbiamo il primo quadrante che appunto è l'intervento chirurgico abbiamo un secondo quadrante che è rappresentato dalla panorex quindi dalle informazioni appunto del bidimensionali del paziente abbiamo un terzo quadrante che è appunto il mirino il target abbiamo un quarto quadrante che è un vettore vedete in questo caso ha un colore verde e ha un numero che è 8.1 che cosa significa questo vettore cosa significa questo numero questo numero indica la distanza che c'è tra la punta della fresa oppure dell'impianto rispetto all'apice dell'impianto che è stato progettato vedete questa figura gialla che noi vediamo è l'impianto che il clinico ha progettato ha pianificato quindi ha fatto diagnosi e insieme alla diagnosi e quindi ha sviluppato un piano di trattamento questo piano di trattamento abbiamo visto essere stato sviluppato secondo un concetto e quindi attraverso questo tipo di analisi lui praticamente ci indica la distanza che c'è tra la punta di questa fresa e l'apice di questo impianto che è stato progettato chiaramente mano a mano che noi scendiamo con la fresa questo numero diminuisce fino ad arrivare ad essere zero quindi quando poi sostanzialmente diminuerà e diventerà zero quindi ci dirà sostanzialmente che noi siamo arrivati in apice per cui le due informazioni che sono alla base della chirurgia dinamica e sono ripeto due informazioni da una parte abbiamo l'asse dell'impianto che è stato progettato questo asse è stato scelto secondo un riferimento protesico direttamente dal clinico che ha progettato l'inserimento di questo impianto sempre utilizzando il Navident quindi l'asse è una chiave molto importante e questo asse lo troviamo al centro di questo target quindi il target il centro del target è nient'altro che l'asse dell'impianto progettato quindi nella sostanza dobbiamo mantenerci al centro in modo da poter seguire l'asse dell'impianto progettato l'altro elemento molto importante è l'apice che ci indica dove questo impianto rimane ancorato e questa informazione noi la sviluppiamo attraverso questo vettore che come abbiamo detto ci indica la distanza tra la punta della fresa e l'apice piuttosto che non dalla punta dell'impianto e la posizione apicale di posizionamento di questo impianto e osservando la traiettoria di questo vettore noi siamo in grado di capire dove arrivare quindi dove fermarci quindi uno degli elementi che viene appunto messo a fuoco e messo a punto durante il corso di abilitazione è proprio lo studio di questo target perché in realtà come vedete questo target ci dà tre informazioni vedete la informazione verde questa azzurra e questa e questa nera sono tre informazioni di cui due sono millimetriche e una è angolare quindi cos'è la distanza la prima distanza la prima distanza questo 0.5 millimetri è la distanza che c'è tra la punta della mia fresa rispetto al centro di questo target quindi questa distanza è una distanza in questo caso limitata perché vedete è 0.5 millimetri ma vediamo che questo target è millimetrato abbiamo quindi il centro abbiamo un primo cerchio a 0.5 millimetri abbiamo un secondo cerchio a un millimetro un millimetro e mezzo due millimetri due millimetri e mezzo quindi questo ci dà l'informazione di quanto siamo distanti rispetto al centro del target con la punta della fresa io ripeto il centro del target è niente più che praticamente è appunto il centro l'asse dell'impianto che io ho progettato ma evidentemente io posso avere anche un angolo diverso oltre a averci una correzione lineare io devo comunque arrivo su quell'asse con un angolo che è l'angolo del mio contrangolo questa angolo questa informazione angolare è rappresentata dalla proiezione di questo cono su un piano quindi vedete che noi abbiamo una proiezione di questo cono quindi questa è l'immagine del mio contrangolo e come vedete questa immagine ha una proiezione su un piano che è questo piano questo piano ha un nome perché vedete che abbiamo A P R e quindi S R sta per destra S sta per sinistra P sta per posteriore A sta per anteriore rispetto a che cosa? sempre rispetto al centro cioè rispetto all'asse dell'impianto che è stato progettato quindi in questo caso l'angolo del contrangolo ha una proiezione che è anteriore destra quindi la mia proiezione del contrangolo è una proiezione appunto anteriore destra quindi in questo senso attraverso la lettura di questo target io so che il movimento che dovrò dare alla mia mano sarà esattamente l'opposto dovrò andarmi a spostare con un angolo che è posteriore sinistro quindi mi porterò da un angolo quindi da un'inclinazione anteriore destra ad un'inclinazione posteriore sinistra il tutto come abbiamo visto per raggiungere il centro quindi per raggiungere la piena ortogonalità dell'atto appunto chirurgico e del fresaggio e quindi attraverso questa ortogonalità portare avanti il mio intervento quindi facciamoci aiutare appunto un po' da queste immagini vediamo che in questo caso abbiamo la punta della fresa che sta a due millimetri posteriore destro quindi questa è l'immagine che poi abbiamo anche nelle immagini bidimensionali vedete questa punta che ha una inclinazione quindi un angolo posteriore destro scusate posteriore in questo caso la punta è posteriore però l'inclinazione è sinistra quindi infatti vedete l'inclinazione è sinistra e quindi abbiamo la necessità di fare due correzioni quindi portare la punta della fresa dai due millimetri al centro del target e di portare questa proiezione che abbiamo visto essere anteriore e sinistra portarla posteriormente verso destra e quindi arrivare gradualmente ad avvicinarci a questa situazione vedete che in questo caso la fresa sta ingaggiando l'osso ma ancora in una posizione che è ancora non centrale perché vedete che la punta è passata da due millimetri a un millimetro quindi ci siamo avvicinati ma l'angolo rimane ancora un angolo anteriore sinistro quando noi abbiamo raggiunto l'ortogonalità quindi quando noi abbiamo raggiunto un asse che è praticamente una posizione di una fresa che è praticamente allineata all'asse sia con la punta che con angolo quindi noi vediamo praticamente la testa del mandrino e non più il profilo del contrangolo questa è la posizione in cui iniziamo a fare la nostra ostiotomia e quindi attraverso questa posizione inizia l'ostiotomia e iniziando l'ostiotomia come vedete compare questo vettore verde che ha questo numero che è il 5.8 che ancora una volta è la distanza che c'è tra la punta della fresa piuttosto che la punta dell'impianto e l'apice dell'impianto che è stato progettato man mano che io mi avvicino all'apice vedete che questo vettore si allunga questo numero si riduce quando io arriverò a meno un millimetro dall'apice il colore vedete da verde diventa giallo e compare anche il numero al centro del target questo per significare che cosa per significare che devo appunto prestare attenzione al tipo di ostiotomia che sto facendo perché chiaramente mi sto avvicinando all'apice quando raggiungo l'apice evidentemente il vettore diventa rosso e mi dà l'informazione 00 quindi mi dà l'informazione che io sono arrivato esattamente sul punto in cui voglio ancorare il mio impianto questa è un'informazione importante perché noi stiamo lavorando a mano libera quindi non c'è una dima che stoppa la mano del clinico quindi è importante che il clinico abbia la consapevolezza che in questo punto si debba fermare evidentemente oltre al messaggio visivo c'è anche il messaggio acustico ed è logico pensare che laddove possa essere utile magari con una pianificazione direttamente sopra il nervo mandibolare possa essere utilizzato una bussola che in qualche modo vincoli e limiti appunto la lunghezza della fresa in modo da non arrivare accidentalmente magari per movimenti inconsulti del paziente a toccare il nervo quindi queste sono le modalità in cui appunto da un punto di vista pratico stiamo stiamo lavorando perché il navi perché sostanzialmente scegliere appunto il navi ecco uno degli elementi chiave dell'appunto dell'uso del navi è rappresentato da questa immagine vedete c'è un prima e c'è anche un dopo il prima sostanzialmente è rappresentato vedete da un marker radiopaco che il paziente indossa o meglio indossava e che veniva registrato dalla combim e una volta che i dati da ICOM venivano importati sul navident il software arrivava a registrare il dato della combim con l'anatomia del paziente per effetto di questi marker radiopachi questi fiduciari qual è diciamo lo svantaggio di questo protocollo di lavoro lo svantaggio di questo protocollo di lavoro è quello di avere una combim dedicata per il navident dedicata appunto perché appunto è inserito un marker radiopaco che permette poi al software la registrazione dei dati della combim ma evidentemente questo crea una complicazione perché da una parte non è detto che ci sia la combim all'interno dello studio e poi non è detto che appunto il paziente non arrivi già di suo con una combim ebbene uno degli aspetti che ormai da un anno e mezzo il navident ha inserito è la possibilità di bypassare il marker radiopaco attraverso una combim tradizionale come vedete qui ci sono solo due rulli salivari che servono semplicemente per tenere staccate le due arcate in questo caso perché la combim ha un reggimento ma in altre combim dove c'è il byte va benissimo anche il byte ma la logica comunque è quella di separare le due arcate che ricordo si sta facendo una chirurgia protesicamente guidata e quindi la dimensione verticale dei denti piuttosto che non delle dentature o delle protesi mobili del congro e del paziente sono comunque informazioni importanti che devono essere acquisite ecco attraverso il navident io posso utilizzare un protocollo che mi permette di lavorare su una combim standard senza dover inserire in bocca al paziente un elemento radiopaco questo facilita di gran lunga il flusso di lavoro e permette tra l'altro una gestione efficace della chirurgia dinamica anche a chi non ha in studio una combim questo è un motivo sicuramente molto importante un altro motivo importante secondo me viene rappresentato da questa slide questa è una slide in intervento dove sono stati inseriti come vedete due impianti pteroguidei ci sono due impianti nasali e c'è appunto un impianto sulla spina nasale a dire che appunto il navident proprio perché permette una chirurgia in tempo reale dove io navigo e vedo esattamente quello che io faccio all'interno dell'anatomia del paziente mi apre la porta ad una serie di applicazioni che al momento sono considerate appunto difficili come per esempio appunto l'inserimento di un impianto pteroguideo piuttosto che non l'inserimento di un impianto nasale perché perché chiaramente non ho una visione in tempo reale tradizionalmente dove si va ad ancorare l'impianto pteroguideo piuttosto che non l'impianto nasale ma la logica della chirurgia navigata è proprio quella di vedere in tempo reale quello che sto facendo e quindi io ho la possibilità di poter ancorare un impianto pteroguideo esattamente sulla lamella pteroguideo piuttosto che non il nasale o lo spinale e quindi è evidente questo tipo di protocollo è un protocollo che secondo la modalità di chirurgia navigata rappresenta sicuramente un'opportunità in più di piano di trattamento rispetto a dei piani di trattamenti classici che come sapete prevedono delle chirurgie ricostruttive piuttosto che non degli interventi diciamo più demolitivi come potrebbe essere anche lo stesso impianto zigomatico in quanto evidentemente l'impianto pteroguideo rispetto all'impianto zigomatico ha dei notevoli vantaggi non ultimo il fatto che emerge nell'arco del paziente non a livello palatale ma direttamente nell'arco e che quindi permette al clinico di poter lavorare su 14 denti invece che sui classici 10 denti dell'olumfor voi sapete meno di me che l'olumfor parte da quinto a quinto l'impianto pteroguideo lavora da come sapete settimo a settimo e qui è il motivo per cui il dottor Stefanelli ha sviluppato il protocollo da Vinci Bridge che è un protocollo che permette di realizzare una protesi sociale quindi una toronto ma appunto su degli impianti pteroidei riducendo al massimo sia il costo biologico del paziente ma anche chiaramente il costo economico per il paziente stesso ecco questo tipo di interventi sono interventi appunto che il Navident permette di fare quindi abbiamo detto siamo partiti dall'inizio con l'idea della chirurgia protesicamente guidata quindi non nell'inserimento degli impianti ma un implanto protesi guidata e a questo punto capiamo che attraverso la chirurgia navigata siamo in grado di poter gestire dei pazienti atrofici dando delle soluzioni che sono alla portata di chiunque utilizzi chiaramente il Navident un altro perché importante della chirurgia dinamica e del Navident è legata a quella che è la prova di accuratezza ed è una chiave molto importante che differenzia la chirurgia guidata dinamica da quella statica in quanto come sapete quella statica viene inserita alla dima chirurgica viene fissata la dima chirurgica si esegue l'intervento si toglie la dima chirurgica e si constata il tipo di inserimento implantare che è stato effettuato quindi è un controllo post-REM nel caso della chirurgia dinamica del Navident invece il controllo è ante-REM cioè quando è stata effettuata la registrazione dell'anatomia prima ancora di fare l'ostiotomia il clinico porta avanti un test che è il test di accuratezza in cosa consiste questo test consiste nel metterlo in condizione attraverso una fresa di poter toccare un punto cospicuo un landmark noto come in questo caso la cuspide di un elemento dentale e vedere questa cuspide è toccata attraverso le immagini che il computer trasmette al clinico quindi c'è una congruenza tra quello che il clinico fa toccare la cuspide e quello che mi viene proiettato dalle immagini del computer io tocco sto toccando la cuspide quando questa congruenza c'è vuol dire che ho quel livello di precisione che mi permette di portare avanti il mio intervento chirurgico questo è una chiave importante perché è una chiave che permette in qualsiasi momento il clinico abbia interesse o abbia l'esigenza di verificare la precisione dell'atto chirurgico può immediatamente toccare dei reperi cospicui in questo caso vediamo toccare una cuspide e sincerarsi che ci sia una congruenza quando questa congruenza viene evidenziata ecco che l'intervento può procedere in modalità del tutto sicura quindi questo è un altro elemento la prova di accuratezza che in qualche modo rappresenta un punto di forza del Navident un altro punto di forza del Navident è rappresentato dalla sua versatilità perché qui appunto vediamo sostanzialmente un contrangolo nell'immagine a sinistra e nell'immagine a destra vediamo un manipolo dritto piezo che viene ancora una volta calibrato per essere poi utilizzato con il Navident quindi capiamo che il Navident non viene utilizzato solo per l'implantoprotesi ma può essere utilizzato anche per chirurgie avanzate piezochirurgie sia attraverso l'uso della manina questa è una manina che viene calibrata piuttosto che non delle punte piuttosto che non per una chirurgia endodontica o per appunto attività di endodonzia come per esempio l'identificazione di canali calcificati quindi l'uso del Navident è un uso che si può e si apre ad altre applicazioni cliniche come mai il Navident e non altri prodotti perché il Navident segue una politica che è quella di utilizzare un adattatore universale vediamo questo oggetto che è stato fissato sul contrangolo di proprietà del clinico quindi questo non è un contrangolo dedicato al Navident questo è il contrangolo che il clinico utilizza durante la sua attività clinica ma attraverso questo adattatore universale io posso trasformarlo in un contrangolo piuttosto che in un manipolo dritto compatibile con il Navident perché su questo adattatore universale andrò a fissare quelle scacchiere bianche e nere che abbiamo visto prima che permetteranno al Macron Tracker di tracciare i movimenti della mano questa versatilità è un elemento caratteristico del Navident qual è un altro elemento importante del Navident che rafforza sostanzialmente l'uso del Navident il Navident non richiede una presenza una guida un intervento da parte dell'odonto tecnico tutta la gestione la parte partendo dalla pianificazione arrivando all'atto chirurgico sono attività che vengono gestite direttamente dal clinico il clinico non ha bisogno di una figura terza un odonto tecnico o un personaggio che in qualche modo lo affianchi durante l'intervento di Navigata è in grado avendo gestito con una modalità molto semplice la progettazione del caso di passare senza soluzioni di continuo all'atto chirurgico guidato e di gestire attraverso l'interazione che c'è tra il target che abbiamo visto essere presente appunto nel software e la sua mano portare avanti quindi in piena anatomia l'intervento chirurgico e poi in ultimo ma non ultimo vediamo in questo caso il Navident affiancato dal concorrente forse più importante che c'è che è XNav che è il prodotto della concorrenza che viene distribuito a livello globale dalla Nobel e che è sicuramente un ottimo prodotto ma è comunque un prodotto vedete un prodotto che in sostanza ha una dimensione ben maggiore rispetto al Navident il Navident è un prodotto che nasce in Canada XNav è un prodotto che nasce a Philadelphia quindi negli Stati Uniti può sembrare irrilevante ma invece ha un suo perché in quanto come immaginate Toronto è una città dove appunto il Canada in generale il costo a metro quadro degli studi odontoriatici è molto elevato Toronto è una delle città più care a livello mondiale Philadelphia invece è una città dove il costo a metro quadro è molto basso quindi è evidente che gli studi clinici canadesi sono mediamente della stessa dimensione degli studi clinici europei mentre XNav nasce per lo studio clinico americano quindi è un studio molto grande e in qualche modo sposa in pieno la logica del grande uguale bello grande uguale assolutamente di maggior valore ma evidentemente il Navident si adatta molto bene alla dimensione degli studi medi italiani e permette ancora una volta attraverso la possibilità di questo carrello di poter essere facilmente spostato da un riunito a un altro altro elemento molto importante è che vedete questo computer è un laptop quindi è un computer portatile l'abbiamo detto inserito all'interno del Navident ma io come clinico ho la possibilità di poterlo staccare dal Navident e portarlo a casa o portarlo in un altro ambiente per gestire anche in una modalità comoda una possibile pianificazione o più possibili pianificazioni viceversa il computer dell'XNav è rappresentato da questa base che non è in qualche modo staccabile dall'apparecchio stesso e quindi chiaramente rappresenta una maggiore aggravia di logistica e di gestione per quanto riguarda l'apparecchiatura quindi queste sono sostanzialmente le motivazioni che spingono sostanzialmente a un perché legato a Navident io in sostanza ho finito la mia presentazione quindi ripeto è una presentazione che ha una logica di come vedete di entrare nell'aspetto motivazionale e quindi capire un attimo un po' la base da cui si è partiti per sviluppare praticamente la chirurgia dinamica ed era appunto l'obiettivo della mia prima presentazione durante la seconda mia presentazione che farò invece il 25 di maggio scusate sì maggio di gennaio il 25 di gennaio sempre un lunedì tra due settimane affronterò invece nel maggiore dettaglio i protocolli di lavoro che come vedremo sono legati sia alla gestione del trattamento del paziente parzialmente edentulo quanto anche per la gestione del paziente totalmente edentulo a questo punto io ringrazio diciamo le persone che magari sono presenti e le persone che ci ascolteranno a casa e quindi le ringrazio e le saluto e